Il fascino di Roberto Farnesi ha concluso i weekend con la moda che hanno animato il centro commerciale di Montgolfiera di Lecce nel mese di novembre. L'attore toscano è stato testimonial d'eccezione domenica 26 novembre dell'evento conclusivo che ha permesso al grande pubblico di ammirare in anteprima le tendenze della stagione autunno-inverno 2017-2018. Le frequento gioco forza, soprattutto adesso che c'è in onda questa sera e che facciamo questi eventi nei centri hanno un buonissimo riscontro perché le famiglie e il pubblico mi sono molto vicino e dimostrano un affetto straordinario quindi fa veramente molto piacere. Anche oggi abbiamo trovato una confusione, non me l'aspettavo, non a questi livelli. Modelle e modelli, professionisti, fotografi di moda, vetrine animate hanno conquistato il pubblico con sfilate fashion shooting nella speciale area allestita, baby party e tanto altro. Un modo divertente per lasciarsi conquistare dagli outfit più esclusivi e prepararsi ad affrontare una stagione nel nome del glamour. Quest'anno abbiamo avuto un livello di modelle e modelli veramente molto molto alto e anche negli weekend del 17-18-19 e l'weekend scorso abbiamo riscontrato tantissime presenze, soprattutto domenica scorsa. Poi è stata molto apprezzata la moda in vetrina, questo nuovo modo praticamente di pubblicizzare il fashion dove le modelle si istituiscono ai manichini e diventano dei manichini viventi.